Vieni come faccio, vieni come faccio queste vite, mi sono stupigata, chi ci piace? Ah, povera mia! Che puzza non ci piace, mi da fare i regali, mi da fare i regali, non puoi fare i moderni. Ha mancato le scarpe, ti indotto, ti porto qua avanti. E ora l'energia e la gioca, non si chiesa. Ho più consapeachtato, ti dico la Angela! L'energia e il nostro ringrazio. Ah! Ma più? Tu me ridi ancora, che guà! E tra paini! L'energia eervera era tutto ero. La solia è ancora buona, ma si chiesa per niente per questi figli, che non c'è un po' di soldi. Oddio! Abbiamo la giornata, quanta soldi, quanta soldi! E che ci dice, ma chi sta facendo il governo? Alla miseria ci porta. E non potessi stare a ripetere il parco di settemane. Non c'è cinque o sei mesi, non c'è una speccia. Oddio, mi sono sfracchiata lì. Già io ero una delle piccione. Ah, nel bene che ha allenato a me. No via! Via! Ma che fanno, sto nascendo. Via! Piaccio! Via! E la piccola mi provano a sapere che ti senti. Non sono mai che sanno come padre di me. Che tappozza, non ho un bene. E se ciesa. Tuoni un po' le pomme, la schiena e tutte cose. E metteci le un dite dentro le rette. Che a te ne si dà puntate. Da ora che fai peppino stasera ti faccio fare una bella visita. E ti faccio dare qualcosa per questa toscia che la notte mi fai dormire. Perciò? Io non ti faccio dormire. E li metti a tu. Non andavo a che tu stavano a corte maio di giustizio. E vedi che fuori che ti faccio qua. Non te le poteva mettere una troppa di calzone. Dicene di a che sarà armadio. Undici di una, la chiappa, tutte quelle le portano. Non ricordo le bicchiarine dove. Fammi vedere. Fammi vedere. Dove. Ma deve scagnare le mutande. Dice... Allora.. Brucce della brucia? Ecco, facciamo un bel clistero. Mi ha fatto un bel clistero. Tre litri d'acqua, mamma. Ah, mamma. Gli hanno lasciato il bel clistero, mamma. Si scaricò, si scaricò, mamma. Però, eh, buzzini tutta la corsia. Allora lui si è rivolto. Dandolo stomaco. E questo, mamma. E tutte le medicine che aveva due. Queste le pallette. Queste le caps. Queste le cucette. Queste le inizioni sopra la pelle della panza. Queste il flu colesterolo. Quei flu li ha aperti due nonni. Ah, eh, che mamma. Eh, questa è l'ultima medicina che mi ha dato Don Fernand. E io lo sapevo. Eh, e io lo sapevo. Perché questi ormai sono farmaci superati. Sono farmaci di una medicina di 30 anni fa. Adesso ci sono dei farmaci molto più efficaci. Più pratici. Cosa sono tutte queste medicine? Eh, sentiva detto a me, eh? Sentiva detto a me con ciò. Lui mi chiedeva la medicina buona. E ora mamma disse poco. Va bene, va bene, ho capito. Come al solito i vostri problemi li devo risolvere io. Ma che figli? Ma che scrivo il nome della medicina? Faccio la ricetta. Ricette, figli mamma. Ricette. E ci fa la ricetta buona parte. E scriviamo lì. Ma che figli mamma? Ma che ambo sacco? Ci fa la ricetta buona parte. Ah, no, no. Ecco qua papà. Ecco qua. Queste sono supposte. Mi raccomando, le altre medicine non le prendi più. E prenderai queste supposte. Mamma, lo dico anche a te perché di te mi figlio. Una la mattina e una la sera. E vedrai che alla fine riposerai meglio. E farai riposare anche gli altri. Oddio mamma, ma non queste se te ne sei spedite? Eh? Sì, sì, sì. Avevo pensato anche a questo. Di là in macchina ho dei campioni. Oggi è sabato. Sono quattro supposte. Quindi oggi e domani siete a posto. Lunedì andatele con Fernando e poi le spedirete. Adesso ve le vado a prendere. Vabbè, 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 Vabbè. Vabbè, Vabbè... Vabbè, Vabbè! Vabbè, 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 Vabbè! Non è bello che vuole la medicina dentro della madre come Don Fernando! Che soddisfazione, che soddisfazione sceglie vanno io! Una vera, no, nuova, buona, segnalata, segnalata! Ai cuore di Gesù mi ha dato che fighi è di fiori, di fiori! L'ho a di fiori, l'ho a di fiori! L'ho a di fiori, la soddisfazione delle mie mediche, la febbra è stata che la professione sceglie... La proposta è la febbre ma aggiungiamoci essere richiesti… Oh io grazie, mi piace, lo so già che può… Ma che in strafe – ma questo è eccezionale, attura… Oddio, oddio, oddio addios… Addio, addiova… Dovemi dest knock, chiamalo me…. Chi č dico lo perdiz такие… Che hai fatto la musste a Luca… Giure, mamma… Oh porchi, giure mamma… Oddi… Oh mi lasciate, mi lasciate, mi lasciate… Giure, mamma, perologists pliers… Non me ne fai togliere per piacere. Oh, su, un po' tardi, un po' tardi. Un po' tardi. Un po' tardi. Oddio, papà. Su. Tutte le forze. Tutte le forze. Facci su. Come me le faccio io, no? La vostra figlia, mia sorella, è stata interessante. Dove state? No, papà. Angela è incinta, è incinta di due mesi. Oh! 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 Sì! Andi come farò? Ma basta! Di questa stessa le goli a spruzzare i miei mammi! Mamma, mamma, stanno cercando… Il gruppo di stessi che li ha portato a presa! Massimo papà… Però non è stato qui da solo! Ah, non è da solo! Ci stanno pure niente! Quando Dio c'è! Ma ma altri più stori? No, che fa z'acqua così! Ma tu che stia? Perché occupa i piani soldi? Aspetta i piani, ti ho capito che ero nervoso! Ma tu papà, volevo solo dire che non è che è stato solo cieco, perché se Angela non voleva non sarebbe venuta incinta. Chi ce l'hanno sui sgassi? Chi ce l'hanno sui sgassi? Ma come che c'è? La colpa che è dell'uomo, perché se l'uomo si fa le fitte su queste cose non succede. Ma tu che stia? Che stia a fare la mia stia a mandare le cannone a sole? Chi ce l'hanno sui sgassi? Ma papà, papà! Angela è mia giornata, io non potevo impedirla di innamorarsi. Innamorarsi? Ma innamorarsi ero grande? Ma è che ci state pensando qui? Quando su Giulio non posso mai apparire. Papà, te lo c'è a dire. Adesso le cose vanno in un altro modo. Le persone si incontrano, si conoscono, si amano, e magari non vanno d'accordo e si lasciano. Io non potevo chiedere ad Angela che cosa faceva con Ceppo. Io non potevo assillare un controllo più così assivo. Lo capisci o non lo capisci? No, che mi capisci, non ne le capisci, no! Ne le capisci, no! Ne le capisci, no! Bella cosa, bella cosa, bella cosa, bella di sonore, bella vergogna! E se... Tu te la fia tu! Tu, tu, mi sei fatto cicà! A me mi sei fatto cicà vent'anni sopra la Bianchi Piri! E se te la fia tu! La professoressa, la professoressa! E chi acconda le bambici a te della panza feina? Mergogna te! Non ti ho detto da vergogna! Tutti sti sacrifici, belle di sonore che c'erate finito, belle di sonore! E il buscicchio della porta della casa! Tutte la gente le sa! Bella cosa! Che figura ci faceva! Che figura ci faceva! La professoressa è vent'anni che mi stinga e c'era a fare la roba! E io che me l'ho immaginato un matrimonio, bianco, chissone e canno! E se la fia tu! Compri la mano che la fia! Compri la mano che la fia! Compri la mano che la fia! L'ho occupato! Ho giù lì! La punta d'altra che le respirate! Eh! Se le respirate guarda qui! Qua si mangia! Poi lo stanno mandando io che mangiamo tanto tanto! Non dico il proteino! Non me lo facciamo tanto! Ma! I giorni di festa lasciamo bene! Però! Se nasce la mischia! Ah ah ah! Arrivì! E io gli voglio insegnare come si fanno le fammi! la giochera che la fia! E io gli voglio insegnare come si fia! E io gli voglio insegnare come si fia ma subito! Biedache! Ma finisci! Viete grandissimi poi! Ho ancora sabes che nuancesci! Grazie a tutti. C'è una coppa che deve essere consegnata al gruppo e precisamente al presidente Massimale Di Menco. La coppa che deve essere consegnata al gruppo e principalmente al presidente Massimale Di Menco. La coppa che deve essere consegnata al gruppo e principalmente al presidente Massimale Di Menco. La coppa che deve essere consegnata al gruppo e principalmente al presidente Massimale Di Menco. La coppa che deve essere consegnata al gruppo e principalmente al presidente Massimale Di Menco. Però voglio sottolineare che il nome Francesco Teodori ci ricorda uno dei fondatori della Settembrata. L'eredità artistica di Francesco Teodori è portata avanti dalla famiglia Teodori a cui va il nostro ringraziamento sentito. Perché queste serate sono state realizzate grazie anche al loro contributo e al loro sostegno morale. Quindi a loro anche un grossissimo applauso.